Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. La speranza di rintracciarla viva e incolume si è dileguata nel buio della notte. I richiami disperati sui social network, accompagnati dalle immagini e dalla descrizione di Giulia Tramontano. La tragica scoperta, avvenuta tra le pieghe dell'oscurità, ha svelato l'amara verità. Giulia è stata strappata alla vita durante quei lunghi quattro giorni che separarono la sua scomparsa dalla rinvenuta inerte del suo corpo. La sorella Chiara, in un inesauribile sforzo di fede, ha sempre sperato di riabbracciarla. Pochi istanti dopo la scoperta del cadavere, ha condiviso un commovente messaggio di gratitudine sul proprio profilo Instagram. Una fotografia, raffigurante una famiglia felice, svela un quadro idilliaco. Giulia, la sorella, il padre, la madre e il fratello, tutti insieme. Il messaggio, oltre a essere un ringraziamento, si estende a coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Vi ringraziamo per averci donato la speranza di trovarla. Per aver creduto in noi e per averci prestato aiuto. Le nostre parole di gratitudine provengono dal profondo del cuore di una famiglia sconvolta. Composta da fratelli che non avranno mai l'opportunità di cullare il proprio nipote e da genitori privati del diritto di abbracciare la gioia di essere genitori. La nostra famiglia sarà per sempre unita. Proprio come in questa fotografia.